Mese di inaugurazioni infrastrutturali per il comune di Pesaro. Dopo il 6 aprile che ha tagliato il nastro la circonvallazione di Muraglia e l'odierno 12 aprile che ha aperto la ciclovia adriatica fra Pesaro e Gabicemare, il 20 aprile sarà la data cerchiata in rosso per la bandiera a scacchi di anni di lavori sul cavalcaferrovia De Sabata, così come sul vicino sottopasso dei Cappuccini. Il 20 aprile sarà la data in cui riporteremo il cavalcaferrovia alle quattro corsie. Un lavoro iniziato tempo fa con delle prime risorse comunali che si hanno consentito di intervenire in un primo tratto del cavalcaferrovia iniziando anche quello che era il restringimento della carreggiata che doveva servire proprio a mettere in sicurezza il cavalcaferrovia in particolare le barriere laterali i cui studi e le analisi sul ponte avevano dimostrato pericolose. Una scelta coraggiosa portata avanti dall'assessore Enzo Belloni prima di me, una scelta però rilevelatasi corretta visti anche purtroppo gli accadimenti drammatici che sono avvenuti in altre parti d'Italia. Da quel periodo è iniziato un importante lavoro dell'amministrazione a individuare risorse e finanziamenti per intervenire poi su tutto il cavalcaferrovia. Nell'aprile dello scorso anno del 2023 sono partiti i lavori di rifacimento delle barriere laterali, dei cordoli, dei guardrail, dei giunti e infine anche dell'illuminazione. Nello stesso giorno inaugureremo e daremo la fine del cantiere, della conclusione dei lavori di quello che è il sottopasso dei cappuccini. Un'altra opera davvero importante per la città perché ci ha consentito di andare a intervenire in una delle zone più delicate e strategiche da un punto di vista anche di mobilità, dei flussi pedonali e ciclabili con cui andiamo a realizzare questo sottopasso che collega di fatto tutto il quartiere di Pantano, Villa San Martino e quartieri a nord di Pesaro con la stazione del treno e il centro storico. Un intervento che ci consentirà di portare più illuminazione, più sicurezza, delle frequentazioni migliori e quindi è davvero un intervento davvero importante per la città. Inaugureremo anche quello il 20 di aprile con una bella festa, una bella festa nella quale stiamo pensando anche di coinvolgere i giovani perché poi il posto si presenta particolarmente anche pronto ad ospitare anche iniziative come queste perché nello stesso giorno si potrà anche visionare quello che è il deposito delle biciclette e anche quello è un altro intervento proprio a pochi passi della stazione appena concluso. Dal cavalcaferrovia alla statua che da mezzo secolo vigila sul ponte. La Madonna dei Cappuccini, sfregiata dal terremoto di novembre 2022 e ripristinata da un intervento di restauro la scorsa estate, avrà un suo momento importante nella stessa data del prossimo 20 aprile. Sarà anche la giornata in cui grazie alla Tecno Impianti che si è resa disponibile sempre su attivazione del Lions a illuminare la Madonnina con un'illuminazione pensata proprio per andare a evitare dei coni d'ombra verrà illuminata appositamente e accesa proprio in quel giorno.